Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Giuseppe, ti ho risposto? Ma sei in menopausa? Come? No! Cioè, no! Quale motivo è in menopausa? No, intende sei mutato il microfono. Giuseppe, ma scusami. Non ballo, faccio un pov. Faccio capire come lo farei. Fumo, poi la passo, sto giocando a ping pong. Sì, non chiedermi perché. Sto pensando a fare i soldi. Scopo la tua troia mentre pensi a fare gossip. Ne hai tirata troppa questo mese, hai fatto i fossi. E fumo, poi la passo, sto giocando a ping pong. Chiavo, poi la passo a tutti quanti i miei, bro. E fumo, poi la passo, sto giocando a ping pong. Chia-chia-chiavo, poi la passo. La passo a tutti quanti i miei, bro. Mica, green ball, the top. Mi vengono dei tic, tipo, e sono, non so se conosci quella, quella signora che ho capelli rossi, che tipo bestemmia coi tic, no? Vesiamo, go to the house! Sono single, pure io. Un pezzo di gnocco come te, una panterona come te, è single. Da quanto tempo sei single, con lo Shanty? Eh, da maggio. Da maggio. Hai passato l'estate senza, senza un custode. Eh sì. Senza un custode. Era tuola, di nuovo. Non so se la situazione si è cambiata col tempo, poi. Non lo so se le donne ci navigavano come sommergibili sottofondo. Perché, guarda, hai fatto un'analisi ben approfondita. Io c'ho cinque canali sul mio sito, che è ben consultabili. Ecco, l'anagrafica si trova lì. Ecco, comunque il pubblico è al 97% maschile. i 3% sono... Sono... Fermi con la tua vecchia fiamma. Minchia! Così glielo dici? Dimmi un po'. Sorella di un tuo amico. Sorella di un tuo... Ma che dinamiche stanno nascendo? Oh, cazza puttana! Posso sapere... Si può sapere o no? Oh, cazzo! Ma veramente? Sì! 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 Sì, l'ha fatto sì invece. Allora mi sa che non ti ricordi tu, eh. 100... 100 sabbi, no? Grazie Michele, grazie mille. Grazie Grigor Michal... Michail Gabrikar, grazie mille. Grazie Gifrinzio, grazie mille. Madonna mia. Grazie Kava Music. Ma perché... Mi chiami bruciare la voce? Grazie mille. Grazie mille. Mi sembra un pelato, mi sembra così sudicio, e mi sembra vomitato. Con quella bandana tutta gialla sembra bello, ah, non è vero, è brutto come un fringuello, ah, è brutto in culo. E te lo dico Ciccio Gamer, con il culo il suo paguro Ciccio, ah, lo sai che ti voglio bene, ah, Ciccio. In un tuo video si vedeva il pene, piccolo. Non è vero, era un po' grande, sicuro si vedeva piccolino le mutande, perché sì, Ciccio sai, ti stimo. E te lo dico, mi piacerebbe farti un bel... Non mi ricordo che pianta fosse, però era una pianta comunque fattante. Grazie Tommaso, grazie Azon, grazie Binnu, grazie Frattem, grazie Clemente, grazie Lalo, grazie Spinox, grazie Guido Ezz, grazie Santissima Trinità, grazie Anna, grazie Alepanda, grazie Mattia Venditti, grazie mille, grazie Vesh. E si vuole però, tanto Dio. Per evitare questo momento. Grazie Veschi, grazie Sterminede, Thor, grazie Aliasoc, grazie Lalo e Camano. Al primo appuntamento, si beve o no? Si beve? Ma secondo me sì, secondo me se c'è è meglio, perché così si è più spigliati, un po' più... Non so se intendeva il cocktail, eh? Speravo che non intendi questo. Ragazzi, mettete questa clip su YouTube. Allora, Giuseppe Simone dopo la live mi ha scritto. Sderaio perché qua è importante. Un po' di suspense in chat. Mail da Giuseppe Simone. Ciao Burrati. Mi chiamo Burrati, ciao Burrati. Ascolta, mi serve la guida completa per aprirmi il canale Tweaked. Ascolta, cose semplici perché non è come aprirsi un canale YouTube. Guide anche tu e ma con i passi... Mi vesto sempre così. Certo. Shanty Kler, che mi dici? Stai zitta, che mi dici? Oh no! Eh? No, ma... Giuseppe, ma scusami. Ma me? No, mi sa Shanty. Certo, tesoro mio. Ah no. Sei la pantera nera della situazione. No, Shanty ha... Sta parlando Shanty. Mi stai parlando, Giuseppe? E' certo, tesoro. Eh, ascoltavo quello che mi sei. Che bella parlata romana. Chi c'ha? Ma di dove sei? Di Roma. Di Roma? Oh. Ma di Roma di quale quartiere? Eh, io sto un po' fuori, verso il mare. Sai dov'è il mare di Roma o Ostia? Ostia Beach? Vicino ai Ballas, credo. Lì vicino. Ma meglio che non mi vedo. Eh sì. Eh, Giuseppe, ti stai un po' innamorando, vedo. Probabilmente inizierei a succhiarglielo. E poi, poi si vedrà, no? Vabbè, si vedrà, sì. Simone, io, io Simone... Rubino, Rubino, cosa... Io faccio un massacro. Rubino, cosa pensi? Che cazzo devo pensare? Eh, io vuole suicidare, io vuole suicidare. Ma è la cosa più bella, è bellissima. Eh, oddio, non ho visto. È un pagliaccio... Ma zio, no, scusa. Posso, ma c'è. Igo, un pagliaccio Lego. Grazie, ho veramente tanto, cazzo. Cazzo, il pagliaccio Lego volevo dire. Mi informo, mi informo sull'attualità, mi piace, mi piace un po' spaziare in quello che guardo, guardo un sacco di video su YouTube, di un sacco di argomenti diversi, quindi non saprei dirti essenzialmente se ho una vera e propria passione. Oh, molto articolata come risposta. Vabbè, passioni vere e proprie poche, perché tendo ad appassionarmi tanto a qualcosa per un periodo e poi lascio perdere, ma penso che sia una cosa che fa tanta gente. e quindi non ho un no.